Buongiorno a tutti ed eccoci qui un nuovo video su Evole Ingrifatti su Champions Manager 2003-2004 Torniamo in Serie A con Parma Sampdoria Parita tosta, il calcio mercato non è ancora finito ma la vedo molto dura Grazie a tutti per i vostri suggerimenti, per gli acquisti low cost che mi consigliate Ma probabilmente alla fine preferisco rimanere così, tenere duro e cercare di arrivare a giugno tra i primi 4 E poi poter acquistare qualche bel giocatorone che mi avete consigliato voi Intanto Parma Sampdoria, ci sarà Inter-Torino per una difficile visto che il Torino è il 17esimo E la Lazio invece giocherà contro il Bologna anche questa partita abbastanza semplice Quindi si rischia davvero di perdere punti preziosi in caso di pareggio sconfitta E il Parma è settimo e se ce la giochiamo in casa loro e non è facile per nulla Andiamo a vedere prima di tutto la nostra formazione e poi andremo a vedere quella del Parma Allora, noi giocheremo probabilmente con Todorov al posto di Flacchi Gasbaroni ci sarà, qui giocherà a Grosso Per il resto lascerò così, mi sembra Con Zip, Vesitomizi, Falcone, Zenoni, Grosso, Palombo, Doni, Gasbaroni, Cacalove, Todorov in attacco Questa dovrebbe essere la formazione Vedremo se ci porterà a qualcosa di buono Allora, andiamo a vedere sul Parma invece Il Parma, allora questo è tutto il Parma Non ci sarà Barone e Ferrari, questo è un bene Giocherà con un 4-3-3 classico da Parma in questi anni Con Frey in porta, Sebastian Frey Che poi adesso ha fatto per un po' il commentatore in Foxport Italia Junior, Cannavaro, Ferrari, Castellini, Seric, Barone, Donadel, ex Milan Sì, è giocatore a Primavera Come altri mille giocatori, però vabbè Amauri, Gibbs e il Gila Che poi appunto giocherà nel Milan Poi c'è un Domenico Morfeo in panchina Un Emiliano Moretti A un Aleandro Rosina E Montagno Un Parma forte Ci abbiamo già giocato l'anno scorso Abbiamo sofferto molto C'è anche Curci Siciniano E guarda quanti portieri di Diciamo elevata Importanza Non so come sapere come dire Poi c'è anche Giuseppe Cardone Vabbè, questa formazione Anche Mark Bresciano Che è infortunato Peccato che non è per nulla male Ok, pronti ragazzi Quindi questo è il Parma Vediamo C'è anche Itzesberger Noi giocheremo così Si parte con Parma Sampdoria Prima durissima Subito partiamo con Cacalov Che perde il pallet dopo un nanosecondo Ma porca o cane Non la vedo bene sta parita Perché Attenzione Palombo Sembra in vantaggio Sbaglia tutto Il gol di Giuseppe Non la vedo bene sta parita Perché Dopo 15 secondi di gioco Ma e Antonio Rilasciamo perdere Neanche Neanche Che problema Palombo Boh Ormai è morto Non so cosa sia successo E dopo 15 secondi E penso che sia un record Abbiamo vado tutto noi A Mauri Bella palla Palombo è in vantaggio Chiaramente Scivola Non lo so Ho il culo pesante E Gilardino Segna un bel gol Non è colpa di Antonio Sicuramente Ma ormai ogni azione Dovrà colpa di Antonio 1-0 Parma Peggiore inizio della stagione Io mi sto incazzando Signor Cacalov Mi sto incazzando Come cazzo Fai due volte Bravo Gasbarroni Gasbarroni invece è un eroe Gasbarroni Se la lunga bene Gasbarroni Gasbarroni Salva qua E sulla linea Frey Che occasione Parma Sampdoria Falcone Ottima reazione Però Cacalov Devi svegliare Gasbarroni Gasbarroni Bene per Doniel Allarga così così Per Cacalov Cacalov Per grosso Tiro interessante Ma palla che esce Andiamo a vedere altri risultati No andiamo a vederli Perché La partita è frenetica Cannavaro Bella palla Per Amaury 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 Antonioni Gran parata Non è finita Salva tutto Falcone Mamma mia Panico e paura In difesa Junior Ventitresimo minuto Parita davvero Piena di azione Todorov Todorov Saltamoretti Benissimo Todorov Punta l'uomo Ne ha ben tre Supera anche il secondo Entra in aria Mette in mezzo Salva il portiere Salva il portiere Arano in due Per il tapin Rimessa Terale pericolosa Per il Parma Palla in mezzo Per Ritzberger Gasbarroni Ricopera la palla Gasbarroni Se allunga Ancora una volta Terza volta Che ci allunghiamo Troppo Bravissimo Gila A recuperare la palla Seric Cardone Junior Junior Bella palla Palomo Supera come un babaleo Antonioli Non si fa sorprendere Antonioli Si fa sorprendere Come 2-0 Parma Ricavano Molto probabilmente Il pareggio Ma è arrivato Arbitro Vai a dirgli qualcosa Ad Antonioli Perché secondo me Sta truccando la partita Perché non puoi Questo tiro Non puoi Non parare Sul tuo palo Ma poi Questo tiro Centrale Antonioli Antonioli Mio dio Antonioli Mio dio Antonioli Quanti errori Abbiamo fatto in questa partita Quanti errori Sia in attacco Va bene Difesa Imbarazzanti 2-0 Parma L'Inter è in vantaggio E la Lazio È un uomo in più C'è il Bologna In dieci Gasbarroni Se provano la sua fascia Gasbarroni Gasbarroni Metti in mezzo Troppo Larga Recupera grosso Ma come tiri Ma come tiri Gasbarroni Gasbarroni 77 minuto Gasbarroni Un successo nulla Dopo le tre punte Gasbarroni 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 In mezzo Buona Ancora Frey Ancora Frey Gasbarroni Ancora Frey Questa è la differenza Tra i portieri Però ragazzi Questa è la differenza Tra i due portieri Ottantesimo minuto Cannavaro Palla lunga Cerca Seric Ha un po' del rigore Eh Arriva il rigore Eh Oggi giornata nera Comunque Oggi davvero sfortunato Inter vince Lazio vince Come era Da pronostico Andrà a batterlo Montagno Appena entrato Antonioli Montagno Bellamente spiazzato Antonioli 3 a 0 Parma Travolti Ingiustamente Perché Dalle azioni Che avete anche visto Voi E Chiaramente Meritavamo qualcosa in più Anche dalle statistiche Partite Ora andremo a vederle Come vedete Anzi Abbiamo fatto più tiri noi Porta Anzi loro adesso Con questo rigore Ma comunque Da 3 a 0 A Cioè Parla di 3 a 0 Mi sembra un po' esagerato E E da due partite Che non segniamo 5 a 0 subito in due partite Malissimo Malissimo L'avevo detto che Non sentivo fiducioso per questa partita Così è stato Sentivo un po' di Problemi Alla squadra E quindi Ora ci troviamo Al terzo posto Rischiamo anche L'arrivo Della Roma Penso che È il momento più Più duro Della stagione Ma Dobbiamo rimanere Attaccati A Roma Batte la Juventus Questo Può essere un bene Per noi Perché comunque Noi puntiamo arrivati Ai primi 4 Come ho detto E ora Vediamo la prossima partita Infortuni Sui infortuni Ma Non ci interessa Io voglio andare a vedere Quanto mi costa Come cacchio si chiamava Pleticosa Che a Brescia Cazzo Ho pagato 8 milioni Maledizione Maledetti Lasciamo perdere Mi sto facendo un cambiato Glamoroso Davvero Antonio Vuoi trattare un'altra giro al Siena 700.000 euro Grazie Ma 700.000 euro Non me ne faccio niente Se non magari Per Toledo Ora forse C'è i soldi per Toledo Cioè Vale 300 milioni Ti do Ti do un milione Guarda Ti do un milione Perché un milione Avevano rifiutato Ti do un milione E 100 Toledo Mi servi Mi serve Non è vero Non mi serve Toledo Però non importa Offerterà già per posto Anzino 1.7 milione Ma subito Tieni Attenzione Potrebbe esserci la svolta Del calcio mercato Ripeto Ma tu sei una merda Mirko Conte Vattene a fanculo A fare altre scuole Com'è zero Com'è Ma papà Culo Conte Ripetata Allora fanculizzati Fanculizzati Toledo Fanculizzati Mi servi tanto Allora Dov'era Il Il Danimarca Lì che cazzo è Danimarca Eccolo qui Albrecht Contratto Contratto Non protetto Ma da quando Non era così Ma arriverebbe a giugno Penso Un inizio di 1.9 milione Mi arriverebbe Dove Quando mi arriverebbe Attenzione Immediatamente Ok 1.9 milione Attenzione Ah no Ah io ho 2 milioni Ho sbagliato 2 milioni adesso È vero Fanculo Vieni subito Alberstein Vieni Sì Eh sì Cazzo di precisione 15 milioni Va bene Va bene Tutto il che vuoi Va bene Aspettate No Durata Contratto 2010 Fanculo Copitalia Arriviamo Due sconfitte Juventus Ai ai La vedo dura questa Ma metteremo Un po' di riserve No Metteremo 3 punte Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Giocherà Però non giocherà Cacalove Che ha fatto malissimo Giocherà Virdis E giocherà Flachia Al posto Di Duniche Ovviamente Non giocherà punta Per il resto Possiamo lasciare così Gioca Cacalove Al posto di Grosso E Al posto di Gasbarone Che sta giocando Tutte le partite Giocherà Job Le Ventus Abbiamo già vista Un bel po' di volte Non la guardiamo di nuovo Vai andiamo subito Con questa partita Calu Ricordiamo che siamo Sotto i due gol Dobbiamo Vincere Per due a zero Palombo Per l'esplumentare Almeno Palla che esce Potremmo veramente uscire Da questa piccola crisi Comunque piccola Perché Abbiamo perso sì Col Pan Ma in maniera non così Clamorosa Sì il risultato Era clamoroso Ma Ci sta Zero a zero Il primo tempo però Oh ragazzi L'unicazione che c'è stata È quella che ho fatto vedere Non ce ne sono state altre Turam Se ne va come Un bello imbusto Bazzani Antognoli blocca Zivkovic Palla per Flaki Flaki per Zivkovic Bene per Calu 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 Entra in aria C'è Turam Calu Mette in mezzo Ben Ancora una volta Se la salvano Job Il tiraccio Che quasi entra Un assist per Virdis fuori Punizione Volpi 91es minuto Ormai c'è poca speranza Dal 40 metri 35 metri Superare Gigi Mi sembra difficile E probabilmente finirà qua Il match Questa sarà la terza Partita consecutiva Mai successo Che non segniamo Almeno però Non abbiamo subito gol Questo è il lato positivo Finisce così 3 a 0 Per la Juve Si 3 a 0 0 a 0 Ma 2 a 0 Per la Juventus Quindi salutiamo la Coppa Italia Roma Travolge e Brescia in 10 Incredibile Va bene così Comunque è stata una partita Che abbiamo dominato un po' noi Senza fare nulla di che Ma Ci sta I tifosi Acclamano De Nilsson Ah ma è Zaccheroni L'attore dell'Inter Adesso Non è Cooper Amici Stavo preferito Thomas Alve Che è Paolo Poggi Allora Acquisito De Nilsson Un altro acquisto Dell'Inter Per 17 milioni Dal Betis Il Betis è fortissimo Nel gioco Ragazzi Attenzione Eccolo qua Eccolo qua Arriva Un vostro suggerimento L'ingrazo tantissimo Chi me l'ha suggerito È Mart Che mi ha suggerito su Facebook Comunque non su Youtube È Martin Albregstain Il danese Così chiamato Da noi Un bel danese Gustoso Ok ragazzi Quindi Concludiamo qua Eccolo qui È arrivato Albregstain Presentato Bravissimo Ciao Albregstain Ciao Martin Molto felice Di essere qua Nuovo acquisto Questo gennaio 1 milione e 9 Dal Copenhagen Grande 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 Guardate qua Che media voto Bravissimo Bravissimo Vedremo un po' Se riuscirà a far bene Anche qui da noi In Italia Sarà difficile Nel campionato Più bello del mondo Possiamo dire La serie A Siamo contro il Brescia Ci vediamo però Per il prossimo episodio Per il debutto Del danese Immediato Abbiamo 1 milione e 5 Quindi non li useremo Non abbiamo abbastanza soldi Per comprare a nessuno Quindi il calcio in mercato Finisce qua Siamo al 30 gennaio Quindi giustamente Concludiamo qua Con il finale Col botto Però l'acquisto Finalmente Di un giocatore di calcio Grazie a tutti Alla prossima Ciao Ciao